Ancora qualche mese l'emittenza televisiva italiana subirà una nuova rivoluzione fondata sull'utilizzo di nuove tecnologie. Le reti nazionali, come noto, trasmetteranno in alta definizione, quindi occorrerà una TV di ultima generazione e le TV regionali rientrano a pieno in questa fase di passaggio. Le televisioni locali, infatti, che con l'emergenza Covid stanno dimostrando ulteriormente affidabilità e puntualità nell'informazione, per la data che ricadrà entro la primavera saranno pronte a trasmettere in una modalità di digitale terrestre di nuova generazione e per farlo sono già all'opera con una pianificazione di investimenti importanti. Il governo regionale vuole sostenere questa transizione con un bando ad hoc che verrà pubblicato nei prossimi 20 giorni. Lo ha annunciato il presidente Donato Toma durante un incontro che ha avuto con gli editori e con l'ordine dei giornalisti del Molise nella sala parlamentino di Via Genova a Campobasso. Noi pensiamo, prima di tutto, di capire quali siano le esigenze, in termini finanziari chiaramente, e in termini anche tecnologici degli editori. Dopodiché metteremo a fondo un bando che penso possa soddisfare, sono ottimista, le esigenze dell'editoria televisiva molisana. Quindi l'obiettivo è implementare la tecnologia sentendo le istanze degli editori? Certo, implementare, aiutare gli editori a fare informazione con le nuove tecnologie, essere a fianco a queste imprese che danno lavoro ai giornalisti, ai cameraman, ai tecnici in generale, e farlo in maniera tale che in questo periodo di pandemia nessuno venga lasciato solo. L'avviso sarà atteso a finanziare per un minimo del 50% e per un massimo del 90% gli investimenti previsti dalle tv locali per l'acquisto di macchinari necessari a supportare il passaggio al digitale terrestre. Il contributo verrà concesso entro il 30 giugno. Il bando sarà pubblicato dopo un nuovo incontro in cui gli editori avranno esposto le loro necessità. Il settore editoria va sostenuto, ha ribadito Toma. Noi l'istoria a questo settore li abbiamo erogati, ma adesso ci vuole uno sforzo maggiore e diverso perché gli editori televisivi avranno uno sforzo maggiore e diverso perché cambiano le modalità tecnologiche di fare informazioni.